per la semplice volontà di far conoscere questi ottimi prodotti ad altre persone, ma anche per migliorare la loro vita, migliorare la vita delle persone che entrano in contatto con loro, migliorare la vita delle persone che fanno parte della loro rete. E questo è un fattore molto importante che non dobbiamo sottovalutare quando parliamo di un'azienda di vendita diretta nel capo del network marketing. Comunque venendo più nella precisione alla nostra azienda, naturalmente Apple Go è un'azienda che offre prodotti unici di alta qualità che non trovate da altre parti. Grazie a una sua specifica tecnologia, della quale parleremo dopo, abbiamo un prodotto unico che non è uguale sul mercato e soprattutto che non è conosciuto in Italia, perché per quanto possiamo sembrare tanti in questa teleconference, in Italia siamo veramente pochi. e questo è un bene, non è un male, perché l'azienda è grande, l'azienda sta facendo passi da gigante. Pensate che sulle migliaia di aziende di vendita diretta che ci sono nel mondo, l'anno scorso, nel 2019, l'azienda non era neanche nei primi cento, ma nel 2020 è entrata il cinquantottesimo posto sulle migliaia di aziende che ci sono nel mondo di vendita diretta. Quindi, sono veramente prodigate, siamo in confine di espansione e non siamo quasi presenti in Italia. Voi siete, quelli che siete qua, siete tra i pochi rappresentanti e questo è un grande bene, un grande potenziale per la nostra azienda, il fatto che ancora non conosco i nostri prodotti, perché c'è un mondo da esplorare là fuori. Naturalmente, come ogni azienda di vendita diretta, oltre ad offrire prodotti unici di alta qualità, naturalmente offriamo un'opportunità di guadagno. Un'opportunità di guadagno che è molto interessante, specialmente in questo periodo in cui il Covid sta rovinando l'economia e le persone sono alla ricerca di nuove possibilità, di nuove esperienze sul mercato, di un'opportunità imprenditoriale che non ti chieda di investire. Nel senso, se tu provi ad aprire un bar, un ristorante, ma anche stando più nel piccolo, un chiosco, devi cominciare a comprarti la licenza, pagare le tasse, pagare il commercialista, pagare i fornitori, comprare i prodotti e poi cominciare a vendere. Quindi devi avere un investimento iniziale prima di cominciare a vedere i primi guadagni. La potenza della vendita diretta delle aziende di network marketing è il fatto che tu non hai bisogno di un investimento iniziale, ti devi solo comprare i prodotti che vuoi proporre alle altre persone. E questo non richiede nessun altro investimento, non solo, ma con un'azienda di vendita diretta puoi pensare in grande, perché non c'è un limite alle tue possibilità. Di certo devi essere bravo nel network marketing, nel saperti costruire una rete. Comunque, come dicevamo, mettendo insieme le due cose, APL ci offre prodotti innovativi che nessuno ha e che noi abbiamo e dobbiamo farlo sapere alle persone che non ci conoscono e una rendita globale che è in continua espansione. Come vi dicevamo, siamo al cinquantottesimo posto del mondo per un'azienda che ha solo otto anni, essere già nella top 100 del mondo e in continua crescita. questa è una cosa notevole che non dobbiamo sottovalutare e non dobbiamo avere timore di dire dove lavoriamo e perché l'azienda lavoriamo. Perché l'azienda sta, siamo noi il biglietto da visita della nostra azienda, siamo noi che dobbiamo farla conoscere. Vedendo un po' di storia per quelli che non ci conoscono, il fondatore è Servi Kulikov, il proprietario fondatore che naturalmente lavora ora con sua moglie. Lui ha una grande esperienza delle vendite di retta, avendo cominciato quando era appena maggiorenne, a 18 anni, a lavorare per un'altra azienda di vendita di retta, si è fatto le ossa, ha capito quali sono le esigenze di un network marketer, di un distributore, di un incaricato delle vendite, di un partner e ha voluto costruire la sua azienda in un modo che potesse attrarre e trattenere e offrire sempre nuove possibilità alle persone che ci lavorano. Siamo di fronte a una persona carismatica di grande successo, una persona che ha iniziato a 18 anni e a 21 anni ha fatto il suo primo milione di fatturato con la vendita di retta e a 25 anni ha fondato la sua azienda e ora che ne ha 33 l'azienda è a 8 anni l'azienda ha 8 anni ed è al numero 58 del mondo. Andiamo un po' ai microfoni. L'azienda, come dicevamo, a P&G, è attiva in oltre 60 mercati a livello mondiale, in 5 continenti e il numero dei incaricati alle vendite, dei partner, come li vogliamo chiamare, è superi 300 mila. Ma l'espansione continua e Sergei Kulikov è molto ambizioso e so che lui sta puntando al miliardo di dollari di euro, come li vogliamo chiamare, di fatturato. Di certo ora siamo, come avete visto, al 58esimo posto con 125 milioni, però le prospettive di espansione sono grandiose. Naturalmente il mercato italiano in Europa è un mercato su cui lui punta molto perché il mercato italiano è un mercato in cui le vendite dirette vanno forte, primo fattore. Secondo fattore, la vendita diretta si muove in controtendenza rispetto al mercato, quindi quando il mercato è in crisi la gente cerca alternative a basso rischio, come la nostra opportunità è. Quindi è su questo che dobbiamo puntare. Naturalmente è un'azienda solida perché non dipende da altre aziende, per cui non so se adesso sapete che per dire la PlayStation 5 non si riesce a trovare sul mercato perché il fornitore di microchip non ce la fa stare dietro alle richieste e tutti gli apparecchi elettronici del mondo sono in ritardo e quindi anche la Sony che produce la PlayStation 5 dipende dal fornitore dei microchip che non arrivano e lui non le consegna. Noi non abbiamo problemi di questo tipo perché produciamo quello che vendiamo, nel senso che la fabbrica in Moldania di produzione delle nostre caramelle è di nostra proprietà, cioè di proprietà di APL, non mia, io ci lavoro e basta. Comunque la fabbrica è in grado di produrre 250.000 confezioni di prodotti al giorno che è in grado di sopportare veramente la vendita mondiale e le fornisce a tutto il mondo. I nostri prodotti, veniamo alla tecnologia, i nostri prodotti si basano su una tecnologia unica, brevettata e segre, cioè nel senso tenuta nei nostri laboratori che è una tecnologia unica, quella che rende unici i nostri prodotti, che ci rende unici sul mercato. sappiamo che per essere di successo nell'ambito della vendita diretta si deve avere un prodotto che gli altri non hanno. Pensate anche ai nostri concorrenti, tutti tentano di differenziarsi e di essere unici. Abbiamo, per così dire, la formula magica perché questa tecnologia Cumulit adesso io non so più come si diceva. Ina, per favore, se è possibile chiudere il microfono, grazie. Vedo Ina, David, giusto? Si, sto tentando. Ecco, ho chiuso. Ecco, venendo dalla tecnologia, dicevamo, è una tecnologia unica prima di tutto perché abbiamo una formulazione specifica per ogni target che andiamo a colpire, nel senso una volta stabilito cosa deve fare la nostra caramella a livello di integrazione del benessere, si studia la ricetta specifica per colpire quella esigenza, ma non solo, ma il segreto sta nella bioattivazione della miscela vegetale che viene fusa poi nel caramello, così le molecole bioattivate che rimangono nel caramello e quando viene assunta a livello sublinguale rilascia le molecole attive all'interno del prodotto che vanno ad agire a livello cellulare. Questo può sembrare un po' complicato per i nuovi, però dovete immaginare una specie di formula di integrazione. Aspettate, io chiudo i microfoni, ma si riappucano. Silenzio a tutti. Fatto. E appunto, dicevamo che per i nostri prodotti sono assolutamente sicuri e certificati, l'importanza della certificazione è visibile dal fatto che i nostri certificati sono resi pubblici sul nostro sito, non è che uno deve richiedermi, mi potete stampare i certificati, i nostri certificati sono pubblici, visibili a tutti sul nostro sito e sono rilasciati in vari paesi e in tutti questi paesi hanno ottenuto certificazioni tipo ISO 9001, ISO 22000. I prodotti sono halal e kosher, per riuscire a ottenere le certificazioni halal e kosher, bisogna passare degli standard qualitativi altissimi, per non dire poi che i prodotti sono senza glutine e non contengono organismi geneticamente modificati. Quindi adesso a questo punto della presentazione vi vorrei presentare i nostri pregiatissimi partner che hanno dedicato tempo a prepararsi per condividere con voi le loro esperienze con i nostri prodotti, così sentite dalla viva voce di chi i prodotti li usa, quali siano i benefici e l'esperienza personale di questi prodotti e quindi ci basiamo sui fatti delle persone che in questi prodotti vivono e li hanno vissuti. Quindi condivido adesso la presentazione con Oksana Cornesco, Carla Moncaio e Giorgio Axenti. Grazie in anticipo per l'esperienza che vorrete condividere con noi. Buonasera a tutti, mi presento, io mi chiamo Giorgio e vorrei condividere con voi la mia personale esperienza con i prodotti APL. Prima di parlare vorrei fare una piccola premessa, quel che mi piace a me e che fa distinguere anche la nostra azienda da tutti gli altri e anche nel nome di ogni prodotto. Se avete fatto caso, tutti i prodotti hanno solo delle appreviazioni. A me questo piace, è una cosa fica e direi anche unica. Scusate, Giorgio ma tu vedi i slide? Sì, sì. Ok. Prima vorrei parlarvi un attimo del prodotto che si chiama Relax RLX che è un prodotto molto interessante e anche uno dei miei preferiti perché l'ho usato tanto e ho avuto anche dei grandi risultati. Relax, siccome si capisce dall'inglese che è un prodotto che fa rilassare, fa rilassare i muscoli, fa rilassare anche il sistema nervoso e così la persona che consuma questo prodotto riesce finalmente a rilassarsi, a riprendere il sonno. Chi ha disturbi con il sonno consumando questo prodotto reattiva il sonno e può tranquillamente rilassarsi. Io per esempio una volta ho provato del tè verde molto forte prima di andare a letto e fatalità dopo non potevo dormire. Ricordandomi che ho questo prodotto in casa, l'ho preso e a dire la verità neanche mi sono accorto quando mi ero addormentato e ho dormito fino alla mattina tranquillamente anche se mi dovevo alzare alle 5 di mattina per andare al lavoro. Questo prodotto una mia amica mi ha detto che finalmente è riuscita a rilassarsi e a dormire perché prima non riusciva, si alzava sempre con dolore alla schiena, con fatica e delle volte si alzava più stanca di prima di andare a letto. Grazie a questo prodotto tutti questi disturbi che aveva sono passati. Il prossimo prodotto con cui vorrei condividere è il GROW che è un prodotto che fa aumentare le difese immunitarie del nostro organismo. Così consumando il nostro corpo può reagire meglio e anche a difendersi da vari fattori esterni anche interni può combattere molto più efficace e efficiente di prima. Per esempio io personalmente molto soffro con delle afte chi le conosce sono piccole abrasioni della mucosa bucale nella bocca che sono molto fastidiose e qua soprattutto quando mangi. Grazie a questo prodotto queste fastidiosi afte che ogni tanto comparivano mi passano molto in fretta rispetto al classico periodo che ad me durava anche 14 giorni. Pensate due settimane intere la persona soffre consumando il cibo normale perché tutti i frammenti del cibo e le bricele andando lì sulla ferita danno veramente fanno male veramente e il mangiare diventa una tortura. Grazie al Grow io personalmente in cinque massimo sei giorni questa fastidiosa afta mi passa e io finalmente posso tranquillamente godermi il cibo. Per cui per difese immunitarie dell'organismo queste caramelle grosso sono perfette. Il prossimo prodotto di cui vi vorrei parlare un attimo si chiama ALT che tradotto dall'inglese sarebbe alternativa. ALT è un prodotto molto efficace perché aiuta le persone a combattere le allergie e può combattere i fattori allergenici che possono provocare anche i loro effetti soprattutto perché aiuta a difendere l'organismo dall'attività dei radicali liberi. mia moglie l'ha preso o ha cominciato a prendere e ha detto che veramente la sta aiutando perché lei è allergica a tante cose e soprattutto in primavera ed estate. Siccome siamo nel periodo della fioritura potete immaginare come potrebbe reagire una persona allergica grazie a queste caramelle questo periodo si può passare molto molto efficace e anche senza tanti disturbi. Il prossimo prodotto è molto interessante e attraente direi che power tradotto dall'inglese sarebbe forza in questo caso si tratta della forza di lui e la forza di lei. Il power woman è indirizzato a livellare a portare a livelli normali il livello ormonale se nel caso la donna ha il livello ormonale un po' disturbato. Nel caso dell'uomo aiuta a pulire le vie urinarie e così può prevenire nel caso dell'uomo la malattia della prostatite. Direi che il power woman è indicato conosco un caso scusate conosco un caso quando una ragazza aveva riacquisito il suo circo mistuale scusate per la delicatezza grazie a questo prodotto di power woman per cui soprattutto anche il power potrebbe attivare la vività nell'uomo e il libido nella donna. so che la mia collega e amica Oksana vi potrebbe raccontare qualcosa in più di questo prodotto perché lei ha avuto dei risultati Oksana ha te la parola grazie Giorgio sì è vero perché ho condiviso con voi e magari quelli che non hanno mai sentito del mio risultato del power perché diciamo non subito ho iniziato con power io ho iniziato il mio percorso diciamo un po' come raccontato Giorgio con Relax Grow ho iniziato con un alt facendo un programma detox come mi è stato consigliato all'inizio ho iniziato con un alt Relax è un prodotto che dopo vi racconto però il power l'ho preso in seconda quando ho capito che lui mi hanno detto guarda che a livello ormonale li metti a posto ero tanto curiosa perché io avevo il testosterone alle stelle e quindi io avevo un problema di conseguenza che ho iniziato dopo tre parti capiti i sbalzi ormonali che succedono nel corpo ho iniziato a perdere i capelli diciamo nella zona frontale un po' come perdono gli uomini verso i 40 anni no? e quindi purtroppo io ho rassuntato questo problema un 3-4 anni sempre più intensivo quando mi hanno detto Oxana prova vi dico sinceramente io sono partito neanche con uno al giorno sono partito 3-4-5-6 ho fatto un mese di bomba di power io ho capito che i ormoni e altri diciamo dei problemi intimi per non entrare si sono regolati ma il bello è stato che la caduta dei capelli si è fermata e sono ricresciuti altri capelli come vedete non sono perché prima se mi guardavo attento da qui si vedeva tutto fino in fondo infatti mia mamma era preoccupata dice hai 38 però non è un bel vedere le mie amiche mi vedevano stavano zitte per non farmi stare male ma io non è che dovevo qualcuno dirmi qualcosa perché avevo il specchio vedevo benissimo tutte le situazioni però vi dico sinceramente grazie a Dio andando avanti un po' con il programma detox un po' con questo prodotto i ormoni si sono calmati vi dico l'umore viene in norma e quella sapete quel nervosismo che la donna di solito una volta al mese non sa controllarlo ecco quello si è eliminato piano piano quindi io non sentivo più questi salti diciamo di umore su e giù però abbastanza diciamo tranquilla adesso solo se qualcuno non mi fa proprio però il bello mio è stato recuperare al regolarmi i ormoni a recuperarmi i capelli questo è il risultato che io quando qualcuno sento che ha dei problemi di sbalzi ormonale io subito gli dico guarda fate un bel detox e dopo vai di power tranquillissima infatti per il detox che vi dicevo prima che ho iniziato con relax alt grow per alzare le difese io dopo ho continuato con il questo è un fantastico prodotto io lo chiamo sempre fra i miei amici anche in casa mia io le dico un antibiotico naturale prima perché ha dei ingredienti impressionanti sono 45 al numero dentro è chiaro che non dicono tutti però per capire solo fra il carciofo per le sue diciamo capacità che tutti sappiamo il zenzero la licurizia l'origano e tanti tanti altri hanno un potentissimo diciamo dei potentissimi antioxidanti sono quelli che stanno liberando il nostro corpo di radicali liberi e quindi un ottimo anche si usa diciamo come programma antiparasitare perché per le piante che c'è là dentro aiutano in speciale il zenzero che proprio aiuta a eliminare gli alminti quindi questo facendo pulendo il sangue pulendo un po' l'intestino un po' tutto il corpo iniziamo a avere diciamo un benessere interno sempre meglio e meglio io all'inizio vi dico sinceramente per far capire un po' come lavoro il prodotto ma vi dico per mio marito perché è quella la più difficile fare arrivare a un uomo maschio come si può con una caramella stare bene e fare un check up diciamo io le facevo sempre la parallele con la macchina dico è la macchina tu capisci che tu il motore lo devi mantenere sempre pulito e il filtro lo devi cambiare e l'olio lo devi cambiare ecco l'alt è quello che pulisce come fai il cambio di l'olio e l'alt pulisce tutto il tutto il sangue scusate solo un attimo un problemino Oksana l'audio finché Oksana prende ok ci sei Oksana l'audio cara audio audio come sempre è il bello della diretta si chiama questo io sono famosa per le dirette io no sono famosa io per le dirette scusate sì ho iniziato a dirvi che io con il che volevo farvi vedere quando ho iniziato a spiegare a mio marito perché devo fare il detox perché io sono con il detox alla fine sono riuscita a cacciare via quell'allergia che aveva da sei anni perché perché pulendone bene il sangue la linfa cioè il lavoro che fa l'alt dopo aiutando con il mouse purificando bene l'intestino e tutto il resto che per io lo chiamo è quello che aiuta a pulire il fegato è come andare a cambiare i filtri a una macchina io sempre facevo questo paragone dico se tu hai i filtri intasati la macchina fa tanta fatica di andare avanti non ti dico che non va ma fa fatica quindi se noi una volta all'anno facciamo una bella pulizia cioè cambiare i filtri la macchina dura nel tempo quindi metti caso che tu sei una macchina se io non ti cambio piano piano i pezzi non ti faccio una pulizia interna andrai avanti non si sa fin quando e quindi io piano piano iniziando con il fepper per me il fepper mi ha aiutato tantissimo con il herpes che soffriva ma proprio dall'infanzia piano piano per tutta la vita lo aveva appena aveva un po' di un sbalzo di stress una stanchezza un po' più sapete quei giorni un po' più pesanti il hepper cioè il herpes mi veniva subito fuori vi dico sinceramente io sono andata con hepper sei mesi da quando ho iniziato il detox e con sei mesi avanti come ci consigliano i medici che abbiamo in Russia che ci consultiamo spesso con loro hanno detto vai avanti per sei mesi fai una bella pulizia perché ci hai messo quarant'anni a intasare questo fegato proviamo di dargli una bella pulizia io l'herpes l'ho avuta da questa estate solo una volta vi dico quando dopo un grande festone a Capodanno perché si mangia di tutto si beve di tutto e quindi il fegato un po' acceduto adesso ho capito un nuovo risultato che volevo condividere con tutti che ho detto anche le mie amiche a Pasqua come sapete è stato poco fa la nostra Pasqua Ottodossa non faccio più questo io prima di iniziare a mangiare bene mi sono fatta due pepper che hanno detto preparati il fegato e dopo sono andata con l'ice perché con l'ice perché l'ice aiuta la digestione quindi prima di iniziare il cenone ho preso due ice partita la cena io non ho avuto dei problemi quindi la digestione cioè con tutta la grillata che abbiamo fatto con tutto il prosecco che ci sta dopo l'ice è per me aiutato di superare queste grazie che prima magari voi sapete dopo i grandi cenoni quanti giorni ci vuole per recuperare il stato di prima quindi anche l'ice aiuta tantissimo tutto il tratto gastrointestinale perché sapete per la rosa canina per l'aloe per il livello spinoso sono tutte le piante che di solito si consigliano per una bella purificazione diciamo di tutto il gastrointestinale del tutto il tratto quindi con ice piano piano io avevo i bruciori di stomaco ma proprio ai inizi bei inizi con ice e un altro prodotto ho fatto ice con relax ma dopo un ice con stop che dopo Carla vi racconterà più tardi io piano piano mi sono risolto il problema dei bruciori di stomaco che è una vi dico una figata perché arrivare sempre dover qualcosa mangiucchiare per chiudere quel bruciore e non sentirlo più è veramente bellissimo però ice come prodotto c'è un altro prodotto che mi piace tantissimo che dopo ho scoperto l'ice lo pede prima del cibo prima di un bel pasto tipo a prato o a cena quando so che ha un cenone ecco il norm io lo prendo dopo il pasto e infatti il norm è consigliato sempre dopo pasto perché perché è per le piante che ha dentro ha la capacità di regolare i zuccheri in escesso e vengono eliminati se sono troppi cioè li porta alla norm per quello si chiama norm perché normalizza i livelli di zucchero nel sangue è tutto quello che viene in escesso dopo un bel pasto magari si è ricco di carboidrati o di zuccheri se ci mangiamo di quei bei dolcini dopo un cenone e anche una bella torta alla fine quindi norm è proprio uno che salva tutta la situazione diciamo un po' così è un altro prodotto diciamo che il heart è stato un prodotto grazie a quello che sono arrivato io in IPL vi spiego perché perché il heart è stato il prodotto che ha portato il risultato a mia mamma perché l'amica di mia mamma quando l'ha consigliato perché l'ha detto guarda che ho un problema che era pieno di lividi i capillari che erano deboli si ritrovava con lividi su tutto il corpo facendo un detox anche lei prendendo questo heart il heart ha la capacità di rinforzare i pareti di vassi sanguini vedete tutte le frutte rosse vedete che c'è l'abbondanza di frutta rossa che sono ricca di antioxidanti la melograna sappiamo tutti che la usano tantissimo tutti quelli che fanno un sport che fanno tanta attività fisica ecco grazie a questi frutti dentro ma non solo questo tutto tutto l'insieme diciamo dei prodotti che sono dentro e concentrati nel heart a mamma dopo tre mesi ci siamo accorti che lei non ce l'ha più i lividi e lì ho capito che questo prodotto veramente funziona è lì che ho iniziato a fare le mie ricerche sull'APL e dire ma è possibile che una caramella perché vi dico sinceramente io ero tanto scettica all'inizio io non ci ho creduto tanto che una caramella può fare questi risultati ho lasciato un po' perdere ho detto mamma va bene tu intanto mangia la tua amica ti l'ha dati lei aveva una certa fiducia nella sua amica che oggi è mia sponsor e la ringrazio tanto che ha avuto la pazienza di lasciarmi aspettare che io mi faccia tutte le mie ricerche sulla compagnia da dove arrivo il prodotto tutto perché io veramente ero tanto scettica su sta cosa all'inizio e grazie a Hart che mia mamma ha avuto il risultato io ho capito che forse forse dovrei capire meglio tutto ciò ho iniziato la ricerca e ho iniziato tutta la linea a capire cosa e come e oggi sono qui con voi quindi diciamo gli altri li racconto a Carla che anche lei ha dei risultati a te la parola Carla perché il stop è un prodotto che io mi sono risolto il mal di testa che io ho avuto per 23 anni il mal di testa tu lo sai e chi mi conosce da più tempo sanno che io da 23 anni andavo avanti di Brufen e quando ho fatto il detox ho aggiunto il stop piano piano mi è andato mal di testa voi non vi immaginate la mattina quando ti svegli e non senti più il mal di testa non si può ridare ragazzi alzarsi non avere mal di testa è tanto e tutti i giorni andare avanti così quindi dopo io ho iniziato piano piano a raccontare a tutti i miei amici Carla è una di quelli che anche Carla aveva i suoi problemi e di Carla provaci amore almeno vediamo come funziona con te e quindi lei si è fidata anche lei è un po' scettica lo so all'inizio non ci ha creduto più di tanto un po' tanto però ho detto ascolta io li provo vediamo cosa viene fuori se veramente funziona vengo con te se no pazienza e quindi qui con noi sarà un perché certo buonasera buonasera mi chiamo Carla Moncaio e niente allora diciamo che come ha detto già Ozzana il scetticismo fa parte proprio del mio carattere io sono la donna più scettica che ci sia al mondo però quando c'è da fare un passetto indietro per il bene proprio della propria famiglia diciamo che sono pronta queste caramelle cioè fa abbastanza come si può dire fa abbastanza a me molto sinceramente ha fatto un effetto ridicolo quando Ozzana mi ha detto guarda Carla ci sono delle caramelle che fanno del bene e da lì io queste caramelle le chiamo le caramelle della felicità per un semplice fatto perché il nostro corpo come diceva Ozzana è la nostra macchina se noi non riusciamo a a funzionare a far funzionare la nostra macchina come diceva lei prendendo l'esempio cambiando i filtri facendo facendo il tagliando perché ogni macchina bisogna fare il tagliando perché bisogna che sia in regola la stessa cosa vale per il nostro corpo ed ecco qua che le nostre bellissime 15 caramelle della felicità fanno questo effetto sono come dico sempre sono 15 caramelle sono 15 modi da vivere sono 15 esperienze che aiutano Ozzana diceva dello stop anch'io ho avuto dei risultati veramente buoni con lo stop stop no non lascia pure Ozzana intanto tutte e due si allegano io devo dire che io mi trovo bene con tutti i prodotti io ho fatto un full immersion di tutti i 15 prodotti quindi per me tutti quanti insieme in sinergia fanno dei risultati grandiosi stop non peraltro si chiama trionfo sul dolore cioè già la parola trionfo vuol dire vincita vuol dire che ti fa ti toglie ti toglie quel malessere che ti sei trascinato per gli anni ok anche lo slide però siccome io sono del diciamo così del mio team sono sempre quella più pignola perché io mi considero una donna pignola rompiscatole voglio dirvi una cosa se queste caramelle sono della felicità e sappiamo bene come è stato introdotto all'inizio da Gianluca e poi da Giorgio che queste caramelle sono naturali noi nel nostro mondo se Dio ci ha creato per qualcosa e ha creato le cose bene la natura e tutto è stato fatto a regola d'arte vuol dire che nella natura troviamo la soluzione questi prodotti sono fatti come è stato spiegato con delle tecnologie una tecnologia di accumulite che va a prendere ogni singolo ingrediente come ad esempio nello stop che oltre alla liquidizia al peperone e tutto c'è stato un ingrediente una radice che proprio mi ha scombusolata ok è la radice la leggo perché è abbastanza difficile da pronunciare raponzolo si chiama così radice raponzolo giallo la natura ci offre già questa meravigliosa cosa cioè capite bene che se un solo prodotto come il raponzolo aiuta a essere antinfiammatorio aiuta alle energie aiuta alla digestione una radice pensate in un prodotto in una caramella che ci sono dieci quindici persino anche in beauty che è quello più complesso che ha più di una quindicina di tra radici frutte bacche pensate solo una la natura cosa può fare con una mettendoli insieme in sinergia tra tutte queste come dico io sempre nelle presentazioni sono delle bombe ma delle bombe per il nostro bene cioè capite quanto una caramella per quanto possa sembrare ridicola dire una caramella mi fa mi fa bene una caramella mi aiuta a guarire detta così ti prendono come pazza perché se io vengo da te e ti dico guarda questa caramella ti fa del ben mi dicono no aspetta vado un attimo mi prendo a dieci centesimi la golia e sto altrettanto ben sì prova però fai l'esempio prova a prenderti dieci centesimi di golia qua ovviamente vado un attimino contro le leggi del marketing ma prova a prenderti una caramella del tabacchino a dieci centesimi e prova a prendere una caramella di aprilbo nelle caramelle del tabacchino non troverai tutti questi componenti e questo è solo un esempio poi abbiamo slide che io slide lo adoro perché purtroppo grazie alla mamma perché devo ringraziare la mamma e sei presente mamma ti ringrazio la mamma mi ha sempre mi ha dato sempre in realtà tutte le malattie del mondo tra queste ho purtroppo a 31 anni ho scoperto di avere qualche problemino alle ossa e alle articolazioni Oksana mi ha consigliato lo slide ovviamente ho fatto anch'io il percorso detox è molto importante fare il detox per il semplice fatto che il nostro corpo deve abituarsi piano piano alla novità come in ogni cosa ogni cosa ti porta ogni cosa che introduciamo nel nostro corpo lo fa cambiare a volte nel bene a volte nel male qua in Epilgo con le caramelle della felicità ovviamente nel bene perché stiamo ingerendo introducendo cibo cioè che altro di meraviglioso può esistere di stare bene con la natura stare bene col cibo e io per me cioè io lo stop e lo slide li uso in sinergia insieme perché a me fanno calmare soprattutto nella stagione invernale quando poi qua in Veneto che è tanto tanto umido l'umidità non fa di certo bene alle ossa e fa parecchio male e di certo a 31 anni svegliarsi come un'ottantenne non fa non fa effetto insomma no è un po' così non è bello però questi due prodotti insieme in me personalmente danno quella calma al mio corpo e danno quella serenità perché lo slide lo slide ha questa radice che mi è piaciuta tantissimo che me la sono studiata che è l'artiglio del diavolo già solo il nome fa effetto no però questo questa questa pianta questo artiglio del diavolo è un potentissimo e la natura lo dà è un potentissimo antinfiammatorio quindi sappiamo bene che quando le ossa le articolazioni fanno male è perché sono infiammate questo questo slide questo questa caramella che ha dentro anche questo componente qua aiuta tantissimo poi ovviamente essendo che io sono una donna tanto sprint perché chi mi conosce sa che io non mi fermo mai io ho il mio segreto le devo dire la verità ed è il GTS il GTS è un è un super è un top dell'energia una caramellina di GTS insieme a Grow sotto la lingua e la Carla va avanti fino alle 3 del mattino a lavorare e non sto scherzando perché Ozzana che mi conosce bene sa che io sono una che si sveglia alle 6 del mattino e va avanti e tanti mi dicono ma Carla ma come fai? poi le dico perché ho i miei segreti ho i miei trucchi e sono queste sono le le famose caramelline che all'inizio ero tanto scettica e che poi ovviamente provandole un po' lasciandomi consigliare da Ozzana ok? proprio in ogni rapporto umano è importante avere fiducia e io lei ha deposto su di me e viceversa e quindi diciamo che ho fatto bene ad ascoltare i consigli di Ozzana e il GTS ha dei componenti che fanno veramente spaccare cioè il GTS è come se tu bevessi una ma di più di una bibita energizzante ma tre volte tanto solo che nelle bibite energizzanti trovi chimici che sappiamo che chimici hanno certi componenti che non fa bene al nostro corpo col GTS che te lo prendi e vai una bomba vai tranquillamente stai intanto stai tenendo il tuo fisico il tuo corpo ad opera d'arte lo tieni bene lo curi come dice Ozzana la macchina va avanti e puoi e puoi ovviamente incamminarti nella tua giornata ed io lo uso tantissimo sapete che nel GTS oltre ai tanti ingredienti c'è la radice di ginseng il ginseng come sapete è usato da anni cioè da milioni di anni il ginseng è una pianta ma qua usano la radice che aiuta ad aumentare la resistenza dell'organismo e aiuta anche a controllare lo stress psicofisico ok il ginseng aiuta tantissimo anche il sistema immunitario e migliora la capacità fisica e mentale ecco perché io riesco a tirare avanti anche 18 ore di lavoro ho sempre i miei trucchi poi c'è un altro prodotto che io amo particolarmente alla folia lo amo perché l'ho usato sui miei figli lo uso anche su di me perché il brain è un prodotto che aiuta a mantenere il cervello sano ok ogni macchina e qua riprendo l'esempio di Oksana perché proprio mi piace questo esempio della macchina ogni macchina ha bisogno di un motore se il motore non va la macchina non parte il motore del nostro corpo ovviamente è il cervello oltre che al cuore vedete come ogni caramellina ogni componente aiuta il nostro organismo perché per il cuore abbiamo Heart che ne ha parlato Oksana ok ma per il motore psicofisico che è il cervello abbiamo Brain Brain e io lo uso tantissimo perché faccio tantissimo smart working lavoro tantissimo sui social proprio la mia vita la mia vita è veramente cambiata da quando è entrato a Epico perché io lavoravo in un ristorante ok Oksana mi ha fatto la proposta e adesso faccio tutt'altro non l'avrei mai pensato non l'avrei mai detto e quindi il Brain mi aiuta tantissimo a quelle io lo uso tutti i giorni e do tutti i giorni ai miei figli perché come sapete ogni studente deve essere concentrato ok il Brain oltre ad aiutarti alla concentrazione oltre ad aiutarti a a creare nuove idee perché il Brain stimola stimola tantissimo l'attività cerebrale e io questo lo vedo su tutta la mia famiglia sui miei tre fili su me stessa ok e e devo dire che è un prodotto tra quelli come il Beauty che hanno tanti tantissimi ingredienti dentro questi due prodotti Brain e Beauty sono quelli più anche il Grow sono quelli più completi hanno quasi tutti mi sa che sono venti quindici venti ingredienti tra bacche radici foglie sono dei sono quelli che hanno di più ok per un semplice motivo perché il cervello ha bisogno di essere trattato bene sappiamo tutti sappiamo bene che il nostro corpo è la nostra gran parte della giornata se non è tutta e anche quando dormiamo il cervello è sempre attivo quindi quella macchina che si chiama cervello quella macchina che ha tutto che che è come uno scrigno il cervello che contiene tutte le nostre informazioni più preziose e più utili bisogna che sia trattato bene il beauty il beauty è un prodotto che io amo tutti i prodotti della folia però anche là c'è la scaletta del anch'io ho la mia top three no il beauty è un prodotto bomba cioè per me il beauty è stata una cosa meravigliosa credetemi se sapevo del beauty quattro anni fa a quest'ora credetemi sarei andata al Miss Italia e non sto scherzando il beauty mi ha fatto un effetto specchio sulla pelle tremendo ha fatto sciamare piano piano tutte quelle imperfezioni ok ma soprattutto ha tonificato perché il beauty ha quella componente che ti aiuta a tonificare la elasticità della pelle e io sono una dona parecchio vanitosa non l'ho mai nascosto sono una dona troppo vanitosa e vedermi già con le prime rughe io sono andata abbastanza in crisi ma quando ho preso beauty ok perché per essere come c'è una pubblicità che dice essere pulite dentro e belle fuori ok beauty è di quei prodotti che ok vuoi essere bella fuori e ovviamente epilgo offre una vasta gamma di creme di maschere che aiutano ovviamente la nostra parte esterna ok la nostra carrozzeria chiamiamola così ma bisogna essere però pronti dentro perché tutto quello che il nostro corpo butta fuori ok è perché queste caramelline della felicità buttano cioè fanno l'effetto come si può dire come lo scolapasta avete presente lo scolapasta no quando mettete dentro la pasta va via l'acqua che ovviamente non serve più e resta il contenuto no quello che dobbiamo poi ingerire e mangiare è un esempio un po' banale per farvi capire che il nostro corpo con queste caramelline fa eliminare fa buttare tutto che sia brain che ti aiuta il cervello che sia beauty che ti aiuta all'elasticità della pelle a tonificare perché beauty ha un prodotto ha una foglia dentro che è la damiana che oltre a tonificare e a stimolare è anche una foglia una pianta antidepressiva e sappiamo bene che a volte le rughe e tutto quello che ci può far invecchiare precocemente dipende dallo stress dipende dalla pressione in cui viviamo e questo non è una cosa che l'ho invento io ma è una cosa saputa e risaputa e detta anche da grandi medici dal medico anche di base tutti sappiamo che lo stress non aiuta la damiana è una di quelle piante che combatte la depressione solo la se tu ti prendi l'infuso che lo vendono anche in boristeria all'infuso di damiana ti calma vai a dormire vai a rilassarti allora che miglior prodotto di Aipilgo che ti aiuta con una caramellina tanto sono gustose perché hanno un sapore buono perché sono caramelle giustamente sono pratiche perché le puoi portare in borsa e le puoi tenere possiamo fare come Fauzana che lei ha una scatoletta dove ci sono 15 caramelle lei si porta dietro sempre le 15 caramelle sono pratiche metti una in una scatolina metti ogni caramella per ogni situazione che ti serve che sia heart, helper, beauty, slide eccetera eccetera quando hai bisogno te le prendi sono quindi pratiche comode sono anche molto eleganti perché sono fighissime ecco prendiamo la parola di Giorgio sono molto fighissime queste sono la parte della cumul ok abbiamo anche la parte delle creme sono fantastiche sono eleganti da vedere sono molto eleganti fanno un certo effetto ma sono dei prodotti veramente fantastici per dei semplici motivi prima perché i pilgo è di quelle compagnie che non testa i prodotti sugli animali no non non lavora in quel modo e soprattutto in ogni prodotto di bellezza esteriore come le creme come tutta la collezione beauty creme tonico eccetera eccetera sono senza parabeni ok senza chimici senza petrolato senza plastiche quindi sono cose naturali ecco perché io dico sempre è importante prima soprattutto quando le persone vanitose come me vogliono subito andare alle creme dico no prima bisogna pulirsi dentro buttare tutto quello che il tuo corpo non ha bisogno e poi puoi andare al secondo step di delle creme detto detto questo ovviamente ci sarà una collega che nel prossimo incontro vi spiegherà nel dettaglio do la parola a Oksana e basta io credo io sono una che parla tanto e si è visto passo la parola a Oksana vi ringrazio e se Oksana Oksana ci sei sì sì mi vedete mi sentite sì sì io volevo solo ringraziare Luca che ci ha invitato stasera volevo ringraziare voi che avete condiviso un po' i vostri risultati un po' i vostri sentimenti verso il prodotto come l'avete capito e questi voi vedete giusto i slide giusto sì ok la scelta sta a voi a cosa chiede la scelta delle caramelle o altri tantissimi integratori che ci sono sul mercato noi abbiamo scelto questo prodotto per la nostra salute ma anche per l'opportunità e sarà quello che Gianluca adesso vi racconterà dell'opportunità che offre la compagnia io vi ringrazio tanto grazie Oksana se voi grazie a tutti e tre voi di aver condiviso la vostra esperienza e il vostro tempo con noi abbiamo molto apprezzato quello che ci avete detto perché è sempre meglio piuttosto che leggere delle diapositive sentire dalla viva voce delle persone la loro esperienza sui prodotti e adesso io condivido le mie slide per velocemente perché siamo un po' lunghi velocemente per parlarvi dell'aspetto business perché come vi dicevo siamo dovete interrompere la condivisione voi perché se no non posso condividere io però sei riuscito adesso forse sì adesso forse sì aspetta un attimo no ok ecco adesso adesso ci riuscirò adesso che sei riuscita condividi condividi ok diciamo io sono quello che vi devo parlare come dicevo prima siamo un'azienda di network marketing il prodotto lo conosciamo noi siamo 35 in questa in questa serata siamo 35 persone che hanno avuto la fortuna di avere questa presentazione e che conoscono il prodotto ma in Italia non ci conoscono il terreno è vuoto il potenziale l'avete capito dei prodotti ora dobbiamo parlare del potenziale del piano marketing vorrei andare abbastanza veloce perché siamo un po' lunghi però quello che vorrei farvi capire è che abbiamo i prodotti che ci consentono di poter provare a proporle ad altre persone faglieli provare e aiutandoli a stare meglio aiutiamo li aiutiamo anche ad avere dei soldini a fine mese perché si aprono di fronte ai nostri prodotti due strade quella di diventare un cliente quella di diventare un partner la differenza principale qual è il cliente gli piacciono dei prodotti ma non se la sentono non hanno il carattere sono interessati a consumare stare meglio per il loro benessere ma non se la sentono di provare a proporre invece chi vuol provare a diventare parte a condividere inizialmente con il loro primo network con le persone che conoscono maggiormente possono provare questa modalità come dicevo non costa nulla costa solo l'acquisto dei prodotti che si vogliono proporre quindi andando velocemente abbiamo tre tipi di clienti con tre tipi di vantaggi diversi naturalmente il cliente normale è un cliente una persona interessata ai prodotti che se al momento che acquista i prodotti comunica l'identificativo della persona che gliele ha fatti conoscere ottiene un 10% di sconto però di certo questo è meno di quello che può avere un cliente privilegiato che è un cliente che fa un ordine ripetitivo ogni mese e quindi per questo ottiene un 15% di sconto ma è meno di quello che può avere un cliente premium che è un cliente che ottiene dei sconti fino al 50% sul prezzo del prodotto che può soffrire di promozioni tali per cui io pago già il 50% in meno in più ho uno sconto sul prezzo all'ingrosso del quale soffruisco e per fare questo i vantaggi sono evidenti il prodotto che normalmente costa 50 euro lo pago 25 quindi già la quota di iscrizione come cliente VIP come cliente VIP come cliente premium è 25 euro già me ne ripago con lo sconto sul primo prodotto ma poi il potenziale che se io lo compro a 25 lo vado a rivendere a prezzo pieno già ho un guadagno immediato quindi dicevamo diventare partner diventare partner è la possibilità che dico io posso vedere se con la mia attività proponendo queste caramelle queste creme a persone che non le conoscono e soprattutto proponendo di fare lo stesso che faccio io a loro posso guadagnare dei soldini molte persone iniziano solo per integrare i loro guadagni magari quello che guadagnano normalmente gli basta solo per fare la loro vita normale ma non per andare in vacanza e magari provano un'attività come questa per avere un reddito addizionale dei soldi che arrivano con un piccolo sforzo a fine mese avere un reddito addizionale che mi consente di togliermi lo sfizio si parte così poi quando si ingrana quando si capisce l'importanza della duplicazione l'importanza di dire ok io l'ho capito se io che l'ho capito lo faccio lo spiego a altre due persone che fanno lo stesso che faccio io magari io come perché gliel'ho spiegato usufruisco del mi sto creando una rete e usufruisco di un guadagno sul fatto che mi sto creando una rete naturalmente questo non c'è nessuno che da APL ti guarda e ti dice cosa fare ognuno può organizzare il suo tempo può decidere come lavorare quando lavorare e e con chi lavorare una cosa però deve essere chiara che i risultati arrivano con il lavoro il si inizia o comprando liberamente i prodotti o prendendo un kit go ci sono varie taglie secondo della taglia uno può scegliere liberamente ci saranno correlati degli sconti rispetto a questa una scontistica diversa soprattutto una percentuale di guadagno diversa rispetto a seconda del pacchetto che ho preso però non è una decisione che si deve fare subito si può anche decidere di iniziare con un kit da 200 o poi aumentare nei mesi successivi ma quello che è importante sapere è che l'azienda ha un piano marketing tra i più redditizi sul mercato l'azienda paga per ogni cosa che per ogni step che fate nella costruzione della vostra rete come dicevo all'inizio networker un networker che è colui che lavora in un'azienda di vendita diretta è colui che lavora nella sua rete net, rete work è lavoro quindi per andare brevemente APL Go che è una cosa che ho imparato APL Go è l'azienda APL sono i prodotti giusto perché a volte sentite dire APL Go a volte sentite dire APL cioè APL è la marca dei prodotti APL Go è il nome dell'azienda quindi APL Go in questo caso non è il prodotto ma è l'azienda ha pensato a ben 11 tipi di bonus e vi assicuro che se voi guardate sulla app Business From Home BFH che potete scaricare sul vostro telefono noterete che APL è tra le aziende di vendita diretta che paga maggiori bonus sul mercato comunque i bonus sono suddivisi in bonus settimanali vedete 5 di questi bonus sono bonus settimanali mi scuso per la velocità con cui sto andando ma è solo per darvi un'infarinatura del potenziale di guadagno che si ha con questa azienda il potenziale dei prodotti l'avete ben capito quello che è importante è capire che proponendo questi prodotti a persone che non li conoscono e facendo capire a queste persone che se fanno come voi potete creare una rete e guadagnare tutti insieme proporre prodotti che fanno bene per il benessere delle persone sia fisico che economico vi aiuta in tutti e due questi aspetti a piego quindi cominciamo di 11 bonus su 11 bonus ne parleremo di 3 ma solo per darvi l'infarinatura di dove si può arrivare diciamo il primo bonus è il bonus start il bonus iniziale molto semplice come dice il nome start vuol dire comincio iniziare quindi io se propongo l'attività a una persona a mio cugino e lui parte fa appunto lo start per il fatto che lui è partito l'azienda mi dice bravo hai fatto partire lui ti do un bonus se mio cugino è partito con un pacchetto da 200 euro ma al mese dopo decide di passare a 600 al livello successivo magari andare a livello 600 non lo so siccome ha fatto partire un nuovo livello l'azienda mi dice guarda la persona che ha portato dentro è andato a un nuovo livello io ti do un altro bonus e naturalmente il bonus cresce in percentuale al crescere del pacchetto che viene acquistato naturalmente non c'è un limite nel numero di persone che io posso portare dentro io non è che dice l'azienda no basta questo mese due in Cina c'è un'azienda dove lavoravo prima che tu potete portare dentro una persona al mese una e te la dovrei scegliere bene perché una ne potete portare al mese allora la sceglievano con l'anternino noi no noi non abbiamo avuti questi problemi noi anzi facciamo una gara di sponsorizzazione per chi il mio capo che è in Germania il capo dell'Europa mi ha detto se abbiamo almeno tre persone che portano dentro dieci persone nel mese di maggio le invitiamo a Milano in un ristorante per parlare del futuro di API Go in Italia perché il futuro di API Go in Italia ha tutto da costruire noi siamo i primi siamo i pionieri che stiamo entrando nel mercato quindi praticamente questo era solo il bonus start naturalmente se io mi faccio dei clienti dice allora propongo il prodotto a mio cugino ma mio cugino dice ma io non sono portato per la vendita però mi piacciono i prodotti io voglio diventare cliente allora quando compro i prodotti dico che me li hai presentati tu Gianluca io siccome gliel'ho presentato a lui ogni volta che lui compri i prodotti l'azienda mi dà il 30% a me quindi io da una parte è un bonus start perché l'ho fatto partire dall'altra parte è diventato cliente e un'altra persona è diventata cliente e c'è un bonus cliente quindi è solo sto parlando di uno però possono essere 10 15 25 o quelle cioè non nello stesso mese ma nel tempo io posso avere sviluppare 25 clienti e se questi 25 clienti ogni volta che comprano io prendo il 30% dei loro acquisti pensate voi che posso arrivare ad avere un reddito che mi fluisce nel tempo senza quasi sforzo in più se io faccio partire faccio fare start alle due persone questo mese sotto di me ma le mie persone gli spiego bene come fare e loro capiscono e gli interessa fare lo stesso che ho fatto io e loro a loro volta fanno partire delle altre persone abbiamo creato un gruppo e l'azienda mi dice per farvela semplice non andiamo nei numeri l'azienda mi dice ah bravo Gianluca hai creato un gruppo allora ti do il bonus start perché queste persone sono partite ti do il bonus cliente perché hai dei clienti e ti do un bonus di gruppo perché queste persone stanno sviluppando un volume su questo volume di gruppo io ti riconosco un bonus allora naturalmente in periodi diversi momenti diversi io da una parte faccio partire delle persone con dei pacchetti con questi pacchetti che si chiamano kit go e quindi mi arriva da una parte lo start bonus dall'altra parte ho un gruppo che sta già lavorando da mesi prima perché i start sono appena partiti il gruppo sta lavorando perché il mese scorso l'ho già sponsorizzato e loro stanno andando avanti e questo è un esempio per vedere solo con due degli undici bonus dove si può arrivare e naturalmente i bonus sono undici qui non sono compresi i clienti è solo per avere un esempio di come si comincia piano piano con un'attività che parte per arrotondare uno stipendio che io già ho o per provare a fare qualcosa di nuovo e si può arrivare quello che c'è di bello nella vendita diretta nel marketing multidivello che io lo dico sempre è che se io faccio lavoro in non so al stipendio fisso diciamo a meno che non mi promuovano che io sono genio dei geni mi promuovano il mio stipendio è quello che io sia il più bravo del mio gruppo dell'ufficio o il meno bravo alla fine lo stipendio arriva al fine mese e è quello nella vendita diretta non c'è un limite verso l'alto se io sono bravo se io sono bravo a circondarmi di persone brave come me o più brave di me io posso puntare in alto il piano marketing è concepito per pagare sempre di più chi mi produce di più più produco fatturato con il mio gruppo più l'azienda mi dice sei stato molto bravo ti pago ancora di più quindi diciamo ho un gruppo qui stiamo passando un po' di tempo sono diventato un leader di questo gruppo perché raggiungo determinati livelli di qualifica e vedete le percentuali di bonus che si sommano crescono al crescere del mio gruppo crescono al crescere del mio business l'azienda mi paga per quello che gli so portare e questo è un aspetto di non sottovalutare è la bontà dei prodotti l'avete capito bene dall'esempio dei nostri pregiati partner ma la bontà del piano marketing è una cosa che non va sottorotata l'ultimo il mio preferito il bonus di struttura quando si questa dopo sei mesi di tempo mettiamo che io ho delle persone che fanno come me e duplicano in profondità se arriva al secondo terzo quarto quinto sesto livello l'azienda mi paga per la struttura che ho creato ma non è che smette di pagarmi i bonus di prima i bonus di prima continuano ad arrivare e in più mi arriva il bonus struttura che è un bonus potentissimo come potete ben capire quindi io vi invito a non sottovalutare la potenza del marketing plan la potenza di avere il coraggio di persone di proporre l'attività alle persone e la potenza di sfruttare i social media perché adesso che non possiamo incontrarci però possiamo usare i social media per le nostre attività il mio consiglio è di non conoscere una persona sui social media boom primo giorno richiede amicizia boom secondo giorno boom i prodotti no ho assistito a un training di una persona molto di successo sui social media che lui dice allora prima devo guadagnare la fiducia di questa persona poi ne guadagno il rispetto e quando ho guadagnato la fiducia e il rispetto gli propongo i prodotti nel senso che mettiamo che io sono appassionato di cani io entro in un gruppo di facebook dove si parla di cani e a principio io mi faccio amici queste persone parlando di cani io a PL non glielo dico neanche però guadagno fiducia guadagno trust siamo fra persone che a tutti e due ci piacciono i cani quindi siamo già affini abbiamo un'affinità e quando l'affinità si è sviluppata quindi si tratta di lavorarci in questi gruppi quando l'affinità si è sviluppata capisco che è il momento di dire guarda io faccio questo nella vita ho questi fantastici prodotti ti interessa ma prima devo costruirmi la fiducia non è chiedo amicizia oggi domani ti sparo il prodotto no è una cosa che va costruita anche nei social network questo è un consiglio che vi sento di darmi perché è un consiglio che secondo me è molto utile perché la gente se si vede bombardata sul prodotto subito magari dice non ti conosco bene non so chi sei non mi interessa ecco questa è sono andato un po' velocemente forse è stato un po' un bombardamento ma volevo in tempi ragionevoli farvi capire a che livello può arrivare il nostro piano marketing vi ringrazio per l'attenzione questa è la mia email se avete domande ma anche se avete domande immediatamente potete aprire il microfono e farmene farcele anche le mie colleghe partner sui prodotti possono rispondere molto meglio di me grazie anche se hai fatto veloce però abbastanza semplice e chiaro grazie sì sono andato un po' veloce però volevo dare ci siamo un po' noi allargati con i nostri risultati ci siamo un po' un po' troppo non c'è problema è stato bello quello che volevo appunto di far capire è che si ha un'azienda che ha un pacchetto completo abbiamo i prodotti e abbiamo il piano marketing è un peccato che ancora così poche persone ci conoscano e invito tutto a invitare sempre di più a giovedì sera sempre più persone perché noi siamo sempre qua e siamo qua per i nuovi soprattutto perché veramente come dico io spesso ai miei amici dico io ho trovato l'azienda che mi offre salute lavoro e guadagno cioè quello che serve a tutti oggi ma veramente a tutti quindi stare comodi perché purtroppo oggi offline piano piano si chiude vediamo le aziende che fatica fanno quindi tanti si trasferono online che hai figli che non si capisce che è dad o è presenza a scuola quindi anche comodo io parlo da madre di tre figli per me è comodissimo farlo adesso in network e quindi stare bene aiutare gli altri per questa la compagnia ti ringrazia diciamo con il risarcimento cioè fai tre in una è una io sempre dico ragazzi è una figata cioè io non so come si può dire di no ma almeno provare provare per credere provare per vedere io per i nuovi che ci sono veramente ragazzi almeno provate chiedete quelli che vi hanno invitato stasera più informazioni perché veramente vale la pena come dicevo per quanto scettica io era all'inizio ci ho creduto io e io dei risultati quindi qualunque provate benissimo data l'ora tarda io ringrazio tutti voi specialmente di nuovo i tre presentatori e a giovedì prossimo per nuove incredibili avventure con API Go sì grazie grazie a tutti grazie Gianluca buona serata grazie ragazzi buona serata a tutti grazie ragazzi buona serata